ciao a tutti ragazzi ben ritornati su call of duty mobile dobbiamo sempre sti qua equipaggiando armaiolo qua dobbiamo andare ogni volta personalizza perchè ci sta l'adesivo nuovo no io voglio quello del s4 perchè a me mi piace stare ls4 il vanilla craft s4 non pensate male comunque oggi andremo a fare la sfida 10 contro 10 scusate stavo un attimo morendo andiamo a fare la sfida 10 contro 10 allora io vorrei provare questa matita si può disegnare sullo schermo wow io sta cosa non la sapevo si può cambiare anche il colore e il tratto bellissimo ragazzi il programma di samsung migliora 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 siamo nel free partita dobbiamo conquistare i punti vedete questo sarà il punto non è stato ancora assegnato penso ecco il nemico lo ammazziamo subito eccoci qua stiamo in battaglia con 40 no 50 40 scusate se ho tappato il microfono siamo intorno ai 50 millesimi di secondo di latenza latenza normale questo è c vedete noi i nemici stavano di sotto però io sono andato di sopra perchè ho seguito quest'altro qua ok mi sa che ho fatto una meglio pensata se ne vedo spari vedo ammazziamo a questo zebrato ammazziamo a quello la c'è un altro laddier ammazziamo pure a questo ammazziamo pure a qui no non ce l'ho fatta non mi sembrava troppo bello infatti dobbiamo tenere sotto controllo la vita che sarebbe indicata da quella barra dove c'è scritto ps no ps4 e no ps5 boh non lo so raga a me la playstation non mi è mai piaciuta boh ho detto ps allora mi è venuto da dirvelo a me la playstation non mi è mai piaciuta io sono sempre stato team xbox perchè ho avuto la prima e mi sono trovato benissimo non ha mai dato particolari problemi a parte la bassa qualità ma che volete primi anni 2000 questa era massimo hd già è tanto me sa allora non lo so se la vinciamo questa la vedo non male non male non la vedo tanto male allora vedo un pochino di lag ma è dovuto penso al dispositivo perchè comunque questo è un gioco particolarmente pesante da oltre 20 giga ma non lo so preciso preciso non lo so più di 20 giga sicuro dopo tutti gli aggiornamenti la scarica risorse questo sta sempre a scaricare scarica sempre le nuove risorse io poi le ho scaricate tutte lanciamo questo lancio anche l'attacco aereo qua dove sta madonna li ho ammazzati tutti a questi lanciamo lo stall shopper qua percepisco del lag eh non sempre però tipo adesso sta andando super ma quando sta tanta gente che spara c'è un po' di lag adesso lo sto vedendo bene però tipo ho sbagliato l'arma ho sbagliato l'arma ho sbagliato l'arma ho sbagliato l'arma meno male che non sono accorto chi sto ma vaffanculo ma ora c'è sto coglione la merda no questi non erano i nemici ho sbagliato ma no vabbè non ci sono capiti niente ai 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 e dove sta sto nemico che è successo ah ho pensato che sarebbe bloccato tutto il telefono abbiamo invertito le parti adesso si arriva a 150 kg vediamo quanti kg si riescono a fare ok non è passato nessuno davanti pensavo che erano più stupidi non so che so io quello stupido però pochito pochito di concentrazione penso che ci vuole per catturare ci ok questo era l'amico l'amico fritz l'amico flip plus della brondi l'amico flip plus che succede? ah il cane il cane non l'avevo proprio visto ci sta ancora lo stavo lo sciapolo mio saliamo qua non c'era nessuno di qua di qua e neggia sti cazzo di cani mannaggia i cagnolini mannaggia i cagnolini scusate ah il predator missile è arrivato sembra che non sta laggando più eh ok adesso un pochino si attenzione al cane non so dov'è c'è l'attacco aereo nemico ci dirigiamo verso là ma non so dove si trova ok l'ho visto aia sono morto per il lag mi sa eh ogni tanto le tiro un paio di staccate eh quello va ammazzato a me va ammazzato un'altra volta in alto sta il chapel sempre amico miriamo va teniamoci mirati o no ecco lì se morivo di nuovo eh adesso sta attirando le migliori laggate penso più per la temperatura però abbiamo vinto e questo è l'importante ci andiamo a giocare una bella partita normale penso ci andiamo a giocare una bella uccisione confermata nella mappa shipment va via dopo aver aspettato oltre 40 secondi forse ci siamo eccoci qua siamo effettivamente in battaglia uno penso che ci ha abbandonato però eh quello è bravo quello è bravo quello è bravo 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 sarebbe b come si dice di solito nei game stavolta non è stato molto furbo diciamo ok ok lancio questo drone non ho fatto in tempo lancio questo drone no il predator missile ma proprio un gava mare arriva questo è bravo raga fa zig zag però l'ho ammazzato lo stesso che a me mi ha ammazzato quest'altro su due costa una questo è bravo raga questo è bravo questo è bravo no questo che mi ha ammazzato quell'altro fatto assist sta dietro eh la vedo brutta questa sono morto solo io dieci volte eh poi mi cadono i missile in testa io non ci ho fatto caso stavolta all'avviso questo che fa non le prende aia già stiamo oltre i dieci minuti ok questo non è stato molto vai che la faccio vai che la faccio l'ho fatta qui non lagga ed è caldo è caldissimo lì nell'altra modalità forse perché stavano 20 persone qua tipo 9 ce ne stanno 10 dovrebbero essere però non so quanti hanno abbandonato eh qua parecchie uccisioni hanno negato ok questa la nego io ok 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 quello l'avevo visto però non ci ho fatto caso subito quando mi sono cercato di girare era troppo tardi questo è scappato di qua e poi è fatto così no questo è troppo forte fa la finta fa sta dietro a secchio eccolo eh sì questa pure è forte tutti abbastanza forti però ecco non ce la facciamo no uno sta là dietro ma no abbiamo perso ma è posto persa questa è persa e vabbè raga per poco comunque 37 a 40 l'altro l'abbiamo vinta non mi ricordo però quanto 150 boh non mi ricordo vabbè comunque spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace ne voglio almeno 15 non è vero raga facciamo 3 ne voglio almeno 3 per il prossimo episodio spero che questo video vi sia piaciuto no che sto a segnalare io vabbè ciao ragazzi iscrivetevi anche al canale non so se potete vabbè lasciamo perdere ciao